Musica Bene, eccoci giunti al nostro secondo giorno del Campo Scuola e abbiamo qui alcuni degni rappresentanti del campo sono con noi Alessandro, Giorgia, Luca e Lara i quali ci racconteranno come sta andando al campo e che cosa faremo oggi per esempio cominciamo da Alessandro e come sta andando il campo? Il campo sta andando benissimo, ci divertiamo, siamo in compagnia e siamo felici di essere tutti insieme a Pagliudici Bene, grazie Alessandro Passiamo ora a Giorgia, alla quale chiediamo cosa faremo oggi qual è il programma di questa giornata? Oggi andremo in Laghi Davio, una camminata abbastanza impegnativa di tre ore Cosa sono i Laghi Davio? I Laghi Davio sono delle dighe artificiali a circa 2 mm d'altitudine e passeremo l'intera giornata Bene, quindi sicuramente contempleremo le bellezze del creato faremo alcuni momenti di condivisione e poi torneremo nel pomeriggio Chiediamo ora invece a Luca, una cosa un po' più goliardica come vanno le notti al campo scuola? Ci dorme sempre, non c'è puzza, le camere sono ordinissime e non parlano di spetti, proprio non le dichiaro Grazie Luca, infine chiediamo a Lara Lara, cosa ci dici di Temù? Cosa ne pensi di questo piccolo paese della Valchia Monica? Beh, di Temù penso che sembra il paese Gli abitanti sono molto correnti che non c'hanno niente Va bene Beh, magari nei prossimi giorni potremo conoscere approfonditamente Temù e anche i suoi abitanti Ma vedo che c'è qua Alice, vieni pure Alice, passala a questa parte Cogliamo l'occasione perché oggi è un giorno speciale Alice oggi compie ben 13 anni Cosa vuoi dire a chi ci sta guardando? Complimenti Alice! In questo tuo entusiasmo, buon compleanno Per Campo Scuola News è tutto Martedì 18 luglio, ciao, buona giornata